E' corsa contro il tempo per i comuni di Barcellona, Pozzodigotto, Milazzo, Furnari, Oliveri, Patti e Gioiosa Marea per evitare l'emergenza rifiuti dopo il blocco al conferimento della discarica di Trapani. Ieri a Milazzo, vertice dei sindaci della zona tirrenica, che hanno sottoscritto un documento, hanno chiesto l'intervento della prefettura di Messina e sono pronti a chiamare in causa direttamente il governatore regionale Renato Schifani. L'opzione al momento è ottenere l'accesso alla discarica di Catania. Il direttore della SRR Messina, Arturo Vallone, ha scritto all'assessorato regionale chiedendo l'autorizzazione all'accesso dell'impianto della Sicula Trasporti. Il sito di Trapani è vicino alla saturazione e da almeno due settimane i mezzi coi rifiuti provenienti dall'area tirrenica del Messinese tornano indietro, parzialmente o totalmente pieni. Adesso il rischio concreto è che i rifiuti rimangano in strada. Ieri al tavolo presenti i sindaci di Barcellona, Pozzodigotto, Pinuccio Calabro, Di Milazzo, Pippo Midili, Di Patti, Gianluca Bonsignore, Di Furnari, Felice Germano, Di Oliveri, Francesco Iarrera e il vice sindaco di Gioiosa Marea, Salvatore Salmeri. Il confronto ha evidenziato l'anomalia del conferimento a Trapani, che riguarda 28 comuni della zona tirrenica in Ebroidea, con il risultato che i cittadini di questi comuni pagano un costo maggiorato dovuto alla distanza che i camion devono percorrere per scaricare i rifiuti. Un'altra anomalia è quello che riguarda il costo del conferimento in sé, più concorrenziale a Catania, che è un impianto privato, e meno vantaggioso a Trapani, che è pure un impianto pubblico. Gli amministratori locali non escludono di valutare nelle prossime settimane la possibilità di azioni eclatanti, come quella di non recarsi più a Trapani per conferire i rifiuti indifferenziati prodotti sui propri territori, ma di lasciarli a Palermo davanti alla sede dell'assessorato regionale.